Benvenuti alla trasmissione di Approfondimento Quotidiano. Il fatto che oggi si occupa di politica e se ne occuperà sempre di più perché insomma ormai le elezioni regionali si avvicinano. Non sono vicinissime, però per la politica i tempi sono altra cosa rispetto al resto dell'umanità e quindi tutto quello che può sembrare lontano e vicino e forse anche viceversa. Questo per dire che parliamo oggi di quello che sarà il voto del 10 marzo in Abruzzo per le prossime regionali e fra le persone, i soggetti, i partiti, i gruppi, i movimenti politici interessati c'è ovviamente anche Italia Viva. E allora l'ospite è il coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro che so che adesso va chiamato presidente regionale, giusto? Sì, nel senso che domenica 15 faremo i nostri congressi che eleggeranno il presidente nazionale, regionale e i presidenti provinciali che svolgono di fatto la funzione di coordinatori. E quindi andiamo già verso una riconferma, lo possiamo dire? Sì, nel senso che alla scadenza delle candidature sono l'unica candidatura in Abruzzo quindi c'è un quadro fortemente unitario che mi vede verso la riconferma il 15 ottobre. Quindi 15 ottobre, congressi, vogliamo anche dire dove, come, come si vota? Sì, da noi si svolgerà sia in presenza, c'è una sede per ogni provincia dove gli iscritti e i delegati possono andare a votare a Chieti a pescare a Teramo nei comuni capoluogo per quanto riguarda la provincia dell'Aquila a Sulmona però gli iscritti e i delegati possono anche partecipare votando online e troveranno praticamente sulla scheda, troveranno tre schede una per la segreteria, per il presidente nazionale una per il presidente regionale e una per il presidente provinciale. Per quanto riguarda le province si va verso candidature unitarie Giancarlo Zappacosta per la provincia di Chieti Luciano Monticelli per la provincia di Teramo Luigi D'Alessandro per la provincia di L'Aquila e l'avvocato Carmine Ciofani per la provincia di Pescara. Benissimo, e così abbiamo dato anche qualche informazione utile ma parliamo della campagna elettorale cominciamo subito parlando di questa campagna elettorale che mi è sembrata un po' partire già parecchio accesa insomma siamo a qualche mese dalle elezioni però si sono già innescate una serie anche di polemiche ma anche di affermazioni piuttosto accese sia da parte dell'attuale presidente della regione Marco Marsilon in un recente messaggio diciamo non le ha mandate a dire e poi ci sono state le reazioni ovviamente quindi al di là dei temi e dei programmi di cui parleremo fra poco come le sembra questo avvio? Ma mi sembra un Marco Marsilio molto molto nervoso pensava di aver già vinto le elezioni regionali chiaramente senza avversari sembrava quasi la pubblicità che abbiamo conosciuto ti piace vincere facile dove una squadra entrava in campo e nell'altra parte del campo non c'era nessuno oggi c'è Luciano D'Amico con una coalizione ampia e quei toni e quelle battute non li sentirete mai dalla bocca e dalla campagna elettorale di Luciano D'Amico perché vuole e ha giustamente diritto e dovere di parlare dei problemi e delle questioni io credo che i toni utilizzati da Marsilio che hanno poi provocato reazioni siano un espediente per cercare di spostare l'attenzione sul dato reale delle condizioni dell'Abruzzo, della vita economica dei cittadini e delle imprese piuttosto che su battute che più o meno gli riescono felici a Marsilio naturalmente ricordiamo che parliamo della lista e delle liste che sosterranno il candidato Luciano D'Amico l'area è quella del centro-sinistra Italia Viva è di ispirazione centrista c'è naturalmente poi Matteo Renzi e poi c'è anche un passato con azione che poi ha visto dividersi questa strada oggi siete riusciti in quello che qualcuno chiama miracolo cioè vi siete riuniti per le elezioni regionali quindi Partito Democratico Italia Viva azione Movimento 5 Stelle insomma e poi le liste a sostegno un miracolo oppure un arrivo un punto d'approdo ragionato e utile? Ma noi siamo partiti dai problemi della nostra regione bisogna più o meno smetterla facendo finta che non è accaduto nulla in questi anni in questi ultimi quasi 5 anni c'è stata veramente una profonda trasformazione della nostra regione che è stata devastata da alcuni fenomeni non governati sulla crisi economica la sanità è letteralmente implosa le fasce di povertà sono aumentate la crisi delle imprese e delle imprese artigiane che hanno chiuso i battenti è veramente preoccupante e vedo sullo sfondo molti problemi per quanto riguarda l'agricoltura in particolare la viticoltura abruzzese non potevamo fare finta che questa storia dell'Abruzzo fosse una storia neutra rispetto ai nostri doveri e ci siamo confrontati sui problemi e se lo è questione io non credo che noi facciamo parte del centro-sinistro noi facciamo parte della costruzione dell'alternativa noi non daremo vita alla lista di Italia Viva ma daremo una vita a una lista di centro riformista insieme a più Europa auspicabilmente insieme a socialisti insieme a civici che vogliono e che hanno in comune l'idea di una forza centrale riformista che serve l'Abruzzo questo voler e non è solo una scelta di Italia Viva ma questo voler rimanere sempre ancorati a questo centro è anche quello che però che consente maggiore spazio di manovra per andare da una parte e dall'altra lo dico in senso buono no detta così giustamente è in senso non buono ma da una parte e dall'altra nel senso che noi crediamo e abbiamo l'ambizione di poterci rivolgere ad un elettorato che non sia tradizionalmente di centro-sinistra ma che sia un elettorato moderato che può votare al centro-destra piuttosto che al centro-sinistra sulla base delle persone dei programmi delle idee e di ciò che ha vissuto sulla propria pelle in Abruzzo c'è un vissuto che né Marsiglio né altri possono in qualche maniera coprire che cosa è accaduto in questi cinque anni in Abruzzo è il tema di questa campagna elettorale e che cosa è accaduto rispetto a ciò che era stato promesso cinque anni fa quell'elettorato che viene definito dai tecnici mobile in realtà è un elettorato consapevole che individua e potrebbe individuare in una forza centrista che si assume su di sé l'onere non di gridare i problemi ma di candidarsi a risolvere il punto di riferimento noi vogliamo essere il punto di riferimento di questo mondo che anche probabilmente in passato anche fino a qualche mese fa le politiche ha votato centro-destra e Meloni in Abruzzo e che oggi si trova peggio di come erano stati lasciati in precedenza Per questo accordo che avete raggiunto quanto è stato importante che il candidato fosse Luciano D'Amico? Credo che sia stato fondamentale determinante necessario ma più che la coalizione è necessario per la nostra regione perché dobbiamo rispondere ad una domanda cioè che cosa serve l'Abruzzo non che cosa serve ai partiti per vincere o per cercare di vincere che cosa serve l'Abruzzo l'Abruzzo serve la capacità di lettura Luciano D'Amico è un uomo capace di lettura dei dati economici sociali e di ciò che è la nostra regione ma non basta è necessaria una prefigurazione dove stiamo e dove vogliamo andare chi abbiamo avuto fino ad oggi è il modello esattamente opposto Marsiglio non è un'offesa ma Marsiglio non è abruzzese non lo è stato mai la sera torna a casa a vivere a Roma la sua famiglia i suoi progetti vita stanno a Roma ed è stato calato in Abruzzo è una critica questa sì nel momento in cui non è consapevole delle dinamiche economiche e sociali della vita reale delle persone mi chiedo perché ancora dopo cinque anni il centrodestra non abbia un'abruzzese uno capace di guidare la nostra regione noi siamo costretti a subire dalla Meloni la calata da Roma di un romano alla guida della regione ovviamente decideranno i cittadini ma di fronte a questo modello noi abbiamo messo un abruzzese che conosce l'Abruzzo e che sa prefigurarlo perché è un uomo di studi e di azione cioè Luciano D'Amico a proposito di azione dicevo poco fa Italia Viva e azione erano insieme poi hanno fatto e percorso scelte diverse si ritrovano in questa coalizione Italia Viva da subito ha aderito al sostegno a Luciano D'Amico azione ci ha messo un pochino di più hanno fatto un sondaggio proprio relativo all'operato della giunta Marsilio e sulla base di quello alla fine hanno scelto di stare con Luciano D'Amico secondo lei questo ritardo perché? intanto secondo me non c'era bisogno di un sondaggio per misurare che cos'è stato Marsilio in Abruzzo ma sono molto contento anzi di più del contento che azione abbia deciso di dare una mano alla coalizione benvengano le dinamiche interne un po' di tattica un po' di strategia l'importante è marciare uniti verso un obiettivo che è quello di cambiare la nostra regione sono molto contento che azione ci sarà e avvieremo subito anche con loro il dialogo per le cose da fare e per vedere se possiamo fare un pezzo di strada insieme sulla data delle elezioni si è fatto polemica anche su questa scelta del 10 marzo erano state ventilate una serie di possibilità qualcuno aveva detto anche fine marzo il presidente Marsilio nel famoso messaggio polemico ha ricordato che c'è la Pasqua la replica è arrivata proprio perché Pasqua i cittadini potrebbero andare al voto però adesso è abbastanza ufficiale che si vota il 10 marzo secondo lei questa data è pertinente o è indifferente? è indifferente è una prorogativa del presidente stabilire la data io non sarei entrato in una polemica ovviamente però in passato i presidenti di regione nel fissare la data hanno avuto la sensibilità di ascoltare le forze politiche sociali di farsi un'opinione sulla volontà prevalente non cambia una settimana prima una settimana dopo ma per esempio l'avvicinarsi delle feste di Pasqua poteva essere utile per favorire una maggiore partecipazione al voto ma non sono entrato come ha visto in questa polemica perché io non credo che una settimana prima una settimana dopo faccia vincere a qualcuno faccia perdere a qualcun altro le elezioni ma è solo diciamo una ginnastica di parole che serve a spostare l'attenzione su altro e cioè su quello che noi invece come riformisti abruzzesi di centro vogliamo parlare vogliamo affrontare con gli abruzzesi cioè lo stato di salute dell'Abruzzo e facendo esempi andando a vedere che cosa è successo da dove si è partiti e quali sono le possibili soluzioni se vincerà Luciano D'Amico come qual è il contributo il primo contributo di idee e di programma che Italia Viva si sente di dare a quel presidente eventuale insomma da dove partireste voi intanto partirei dalla sanità con un patto con gli abruzzesi perché di sanità si parla in ogni campagna elettorale ci si rimbalza le responsabilità però il punto nodale qual è in Abruzzo che cos'è la cosa più odiosa vergognosa che non dovrebbe fare dormire la notte nel Marsiglio e nell'assessora alla sanità e la odiosa lista di attesa per avere il diritto alla salute da un lato e dall'altro la mobilità passiva cioè gli abruzzesi che non potendosi curare in Abruzzo vanno a curarsi fuori regione e le altre regioni ci fanno pagare le prestazioni che gli abruzzesi hanno nelle altre regioni queste due facce della stessa medaglia e diciamo si è esaltati in questi anni tant'è vero che gli ultimi dati ci dicono che quasi il 20% degli abruzzesi cioè due abruzzesi su dieci stanno rinunciando a curarsi perché hanno impossibilità di curarsi in Abruzzo per le liste di attesa non hanno la forza economica o familiare per andarsi a curare altrove in altre regioni non hanno la forza per andare al privato e quindi rinunciano alle cure questo è un dato che non dovrebbe fare dormire nessuno quindi io credo che noi dobbiamo partire con la lotta senza frontiere alle liste di attesa e con uno sguardo all'offerta della salute per esempio una regione delle aree interne come la nostra non è possibile che stia senza pronto soccorso con i medici a bordo noi nel precedente governo regionale avevamo messo il medico a bordo sulle ambulanze per le aree interne oggi questo non c'è più significa condannare alla morte chi sta nelle aree interne e ha un'emergenza vera dopo il voto questa alleanza lei ha specificato che è un partito che si colloca nell'area di centro e che guarda dall'una e dall'altra parte in senso di elettori di possibili elettori di Italia Viva dopo le elezioni le chiedo una risposta praticamente in 50 secondi perché siamo allo scadere del tempo sarete ancora insieme in modo da lavorare per ciò che avete promesso ai cittadini? Assolutamente sì dopo le elezioni o vinciamo o perdiamo si lavora insieme perché rispettiamo l'impegno che assumiamo con gli abruzzesi io credo che va anche replicato in Abruzzo se si voterà le province nei comuni dobbiamo cioè offrire un'alternativa vera alla destra in Abruzzo che è una destra romana e di Fratelli d'Italia e che non riguarda per nulla la storia le passioni la volontà i sogni degli abruzzesi Benissimo è stato nei tempi perfetto Camillo D'Alessandro coordinatore regionale di Italia Viva o presidente regionale di Italia Viva come invece bisognerà chiamarlo da ora in poi perché insomma è stata decisa nell'ambito congressuale e anche pre-congressuale questa nuova dicitura congresso che si iterà ve lo ricordo domenica 15 ottobre provinciale e nazionale quindi i cittadini e gli iscritti avranno modo di saperne di più ma noi intanto lo abbiamo anticipato grazie e buona campagna elettorale grazie a lei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti